Allo Spazio 22, la nuova galleria che si occupa di arte, che presenta artisti a Fossombrone, una novità senza dubbio importante, incontriamo Antonio Ugolini, che presenta le sue opere e che adesso ci illustrera quelle che sono le sue ispirazioni per essere arrivato a queste realizzazioni. Le caratteristiche partono in pratica da questa fotografia. Questa fotografia ha più di 50 anni e è stata realizzata da me con degli oggetti casualmente disposti nella mia cameretta da scapolo. Ho fatto la fotografia, ho stampato la pellicola, ho sviluppato la pellicola, ho stampato l'immagine e come vedete qualitativamente è una brutta fotografia, ma le voglio molto bene. In quel periodo succede che il maestro di tutti i maestri urbinati, Carnevali, direttore dell'Istituto d'Arte, fa una mostra alla casa di Raffaello. Io la vedo, mi piace molto, io ero un discreto, appena discreto disegnatore, ho detto chissà se riesco a fare una cosa come il professor Carnevali, che era vicino alla blasfemia, però ci ho provato, cosa faccio il soggetto? Lui faceva questi gruppi di bambini che corriano, paesaggi, eccetera. Ho detto, c'è l'ho il soggetto, eccolo qua, e provo a farlo ed è quello là, quello che è venuto come risultato, la prima immagine come soggetto e con la tecnica del professor Carnevali ho provato a fare un pastellino, un disegnino a pastello. Ho detto è venuto bene, è carino, brava, brava. Però era il tempo dell'accademia, queste cosine minute, queste cosine minuziose cominciavano ad andarmi un po' strette. Allora mi sono detto, forse bisogna aumentare le dimensioni e gli strumenti, le dimensioni degli strumenti, e mi è venuto questo qua, che adesso, questo qua, per prendere il respiro e per uscire dai colorini della scuola del libro, che tanto amo ancora, monocromo, pennello grosso, tela grossa per l'epoca, per me, il risultato è questo. Da quella volta ho cominciato, tutte le volte che mi infatuavo di un'opera piuttosto che di una mostra, piuttosto che di un artista, cercavo di leggere tutto quello che aveva scritto, leggere tutto quello che avevano scritto di lui, guardare, soprattutto dal vero, quello che aveva fatto, e poi con una certa ambizione chiudere tutto e dire adesso io sono te. E rifacevo Van Gogh, piuttosto che Warhol, piuttosto che Matisse, piuttosto che qualcun altro, tutti sono figli di quella sensazione, di quella voglia di diventare come lui. Dopo la presunzione ti fa dire anche io sono come lui, come lui, come lui, come lui. E questi sarebbero, come si intitola la mostra, i miei omaggi. Ovviamente sono i miei omaggi ai vari artisti. La seconda ipotesi di titolo sarebbe stata collezione privata, perché è come se fossero tutti a casa mia, tutti i più grandi artisti, che ovviamente nessuno in certi termini può permettersi di possedere, e quindi sono la mia collezione privata, che è anche i miei 50 omaggi. Sono 50 perché sono 50 anni dalla prima immagine che avete visto. E quindi piano piano, per dei periodi, due alla settimana magari, per altri periodi, 15 anni senza nemmeno toccare il pennello, però alla fine dei 50 anni ho detto va, quanti sono, vediamo di farli conoscere a qualcuno. Ho avuto la fortuna di incontrare qui in Galleria Fossombrone la dottoressa Matteucci che ha detto me li fai vedere dal vivo? E' volentierissimo. Li ha visti e bontà sua mi ha detto ah ma devi fare una mostra? Vuoi dire di no? E questa mostra rimane aperta fino al 27 ottobre? Esattamente. Piazza Dante Fossombrone. Esatto. Chi vuol venire venga, sempre ben accetto. Graditissimo, oltretutto c'è un numero di telefono sotto l'invito e nel manifesto che consente a chiunque anche in un altro momento volesse venirci prendere un appuntamento telefonico e venirmi a trovare e rendere omaggio a me, me lo lasci dire. La ringrazio.